35 film di cui una trentina in concorso, 16 prime nazionali per un totale di 60 proiezioni. Sono questi numeri della 32esima edizione del Festival del Cinema Africano, organizzato da Nigrizia, Centro Missionario Diocesano e Progetto Mondo Mlal. Una felice tradizione per la città scaligera che anno dopo anno è cresciuta e ha lo scopo di dar voce alla cultura africana attraverso le tecniche espressive del cinema. Il tema di questa nuova edizione è Africa Mix, le nuove frontiere della comunicazione sociale. Vogliamo celebrare questa evoluzione culturale a livello africano, del cinema africano, ma anche di altri settori, la musica l'ha fatto già tanto tempo, in cui le altre culture si sono mescolate con la cultura africana per creare una nuova cultura. E l'Africa ci sta dando un esempio di intercultura, di capacità di ricreare se stessa in una nuova cultura. C'è una novità quest'anno, nell'edizione di quest'anno del Festival? Beh, credo le novità sono tante, però in particolare credo è su uno 2.1 che il Festival diventa un festival in provincia sempre di più, c'è un network di paesi dalla provincia di Verona che sta proiettando i nostri film, hanno voluto proiettare sia durante sia dopo, e anche la rete a livello nazionale si sta allargando, quindi il Festival si allarga. La seconda novità sono i premi, c'è un premio speciale interessante che è quello che viene realizzato dai carcerati. È una giuria creata da loro, seguita da alcuni, dalla direzione artistica, è da Dagmawi Wimmer, che è un regista etiopico che vive a Verona, e che anche loro daranno un premio per uno dei film che abbiamo selezionato per loro. Da non perdere The First Grader sul diritto allo studio, Nairobi Half-Life PN, candidato agli Oscar che verrà proiettato in prima nazionale, e Mama Africa, un documentario su Miriam Makeba. Le proiezioni, oltre che nei tre teatri cittadini, quello delle stimate, il Teatro Camploi e il Teatro di Santa Teresa, si potranno vedere anche nelle sale di Bussolengo, Somma Campagna, San Giovanni Lupatotto, Legnago e Cerea, senza dimenticare le scuole. In questa edizione una decina i plessi scolastici coinvolti. Negli ultimi anni poi abbiamo visto quasi un raddoppiamento delle scuole, degli studenti e degli insegnanti che partecipano non solo nei cinema e nei teatri, ma anche nelle aule magne delle scuole, e addirittura quest'anno anche in provincia. Abbiamo visto anche una crescita consapevole nella scelta dei film e anche un senso di responsabilità molto grande quando devono andare a giudicare il film, perché c'è anche un premio scuole, per cui questa cosa responsabilizza e rende un po' protagonisti i ragazzi nel guardare un film di una cultura altra.